Tutto pronto per l'appuntamento tradizionale del San Michele, che si terrà questo fine settimana a Carmignano. Si partirà venerdì 29 alle 21 con il corteggio storico e le sfilate del teatro in strada, dove saranno i bianchi a sfilare per primi, seguiti dai verdi, gialli e infine celesti. A seguire poi il Palio dei Ciuchi. Come diciamo tutti gli anni, San Michele è una delle massime rappresentazioni artistiche e culturali del nostro territorio. Per Trisserate Carmignano rappresenta con lo strumento del teatro in strada quello che è la storia, quello che è il presente e il futuro del nostro territorio. Ovviamente toccando tematiche di storia locale, però i rioni riescono sempre a sviluppare delle storie che parlano anche di presente, che parlano di futuro, di temi di attualità. Quindi veramente un lavoro straordinario, un merito di tutti i nostri rionali che tutto l'anno lavorano prima a creare le storie, la narrazione, ad allestire coreografie, carri allegorici. Quindi un grande lavoro di popolo per una rappresentazione culturale ed artistica altissima. I rionali del Comune Medicio sono impegnati da mesi per la realizzazione dei carri e la preparazione degli spettacoli. I temi scelti per questa edizione sono mia carissima mamma per i bianchi, almeno un milione per i celesti, che razza di umanità per il rione del leone giallo e la speranza di ogni terra per i verdi. Quest'anno abbiamo puntato sulla sicurezza perché ritenevamo che fosse un problema. Abbiamo lavorato sia per rendere più sicuro le lavorazioni che avvengano all'interno dei cantieri, che preparano il San Michele, ma soprattutto anche per quella che è la vera e propria festa, cioè in questo caso partiamo dalla certificazione dei carri, cioè è stato incaricato un professionista per certificare i carri. Questo perché la festa sia una vera e propria festa, non vogliamo che qualcuno si faccia male per rendere bello qualcosa per altri. Ecco, ci piaceva che questa fosse una festa prima di tutto per chi la fa, ma anche per chi la vede, insomma. Domenica 29, dopo l'ultima esibizione, ci sarà la premiazione del vincitore del Palio dei Ciuchi e l'assegnazione del trofeo San Michele al rione vincitore della sfilata folcloristica.